Le bacchettate da parte della Corte dei Conti sono ormai continue e sempre più decisive. Tuttavia il sindaco abate e pondera quanto sta accadendo e non si arrende. Ormai però il fronte comune, sollevato dall'opposizione, lancia allarmi sempre più mirati al primo cittadino e alla sua giunta. Il clima è di guerra dichiarata al sindaco per cercare di salvare Modica dal dissesto finanziario e per far revocare la nomina d'esperto finanziario da 3.200 euro al mese dell'ex presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Anna Maria Aiello, che oltretutto nel ruolo di Revisore dei Conti del Comune di Modica aveva caldamente sconsigliato proprio la nomina di un esperto. Il piano di riequilibrio, come ormai ben noto, dovrà essere rimodulato e sul nuovo documento i giudici contabili dovranno esprimersi, visto che quello approvato dalla Corte nell'ottobre dello scorso anno non è più attuale. L'introduzione della contabilità ormonizzata per i comuni e la revisione delle spese degli introiti da parte dell'ente hanno obbligato l'amministrazione a correggere il tiro nella speranza che il nuovo documento superi le criticità che i giudici hanno elencato nella loro ultima comunicazione. Tutto quello che è passato dal Consiglio Comunale per essere discusso in realtà non ha più nessun valore operativo dato che è tutto da rifare. A Palazzo San Domenico non si riescono a riscuotere i contributi dovuti dai cittadini per i servizi pur se la rateizzazione ha portato 1.880.000 euro in cassa. Ci sarebbero alti 2.300.000 euro da riscuotere che pesano però come un macigno sui cittadini dato che in molti casi si tratta di pesanti arretrati di anni passati ora piombati tutti in una volta sulle tasche dei modicani. Lo scenario è preoccupante, le partecipate assorbono risorse che il Comune non può permettersi e il personale nonostante pensionamenti e riorganizzazioni resterebbe ancora un peso. I fatti, come denunciano dai banchi dell'opposizione, sono sotto gli occhi di tutti. L'amministrazione non ha liquidità sufficiente, tanto che personale dipendente delle partecipate e quello dei servizi esterni non vengono pagati o pagati in ritardo e l'anticipazione di cassa ha raggiunto la ragguardevole cifra di 21 milioni di euro. Il sindaco dal canto suo è convinto che con il pagamento dei tributi entro la fine dell'anno riuscirà a risolvere molti dei problemi sul tappeto, anche se così si spremono i cittadini con bollette di migliaia di euro di arretrati. Grazie 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 Grazie